Innovazione e tecnologia, dal wifi a facebook, dal sito web a un magazzino automatico di ultima generazione. La farmacia di Muria è sempre più vicina alle esigenze dei cittadini. Innovazione, competenza e professionalità per assistervi con il centro analisi, il centro antifumo, la prevenzione cardiovascolare del melanoma, l'analisi delle intolleranze alimentari, un qualificato supporto erboristico e un consiglio dermocosmetico professionale con l'utilizzo di avanzati e innovativi trattamenti estetici in cabina. La farmacia di Muria è aperta con orario continuato dalle 8 alle 21, dal lunedì al sabato.